Posso dire clamoroso, posso dire clamoroso, che poi è una sorpresa ma nemmeno troppo, però mi permettete di definire questa cosa qui clamorosa, cioè allora Maurizio Sarri si dimette, la squadra accetta le dimissioni di Maurizio Sarri, la società accetta le dimissioni di Maurizio Sarri, Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio ed è successo ieri nel tardo pomeriggio, poi oggi non ho avuto modo di pubblicare questo titolo, lo faccio oggi, lasciandomi diciamo abbastanza abbasito perché io mi aspettavo oltre ogni tipo di problema che la Lazio con il tempo avrebbe creato qualcosa con Maurizio Sarri, questa cosa qua sinceramente non c'è stata e non c'è stata perché? Perché Sarri decide di dimettersi e mi fa strano ma prima di iniziare vi invito a lasciare tantissimi mi piace e a iscrivervi a questo canale perché escono ogni giorno contenuti nuovi di questo tipo, freschi, insomma per voi potrebbe anche essere molto figo eseguire questo canale qua. Detto questo qualche giorno fa mi era capitato di parlare con un mio amico laziale e con questo mio amico laziale avevo detto, secondo me arriva un punto in cui la Lazio dovrà allontanare Maurizio Sarri, ma non perché Maurizio Sarri non è adatto alla Lazio, ma perché la Lazio è troppo poco per Sarri perché Sarri non può lavorare con una proprietà come quella della Lazio che gli tarpa le ali che ti chiede una cosa ma tu gliene dai un'altra, anzi che gli chiede una cosa ma le te ne dai un'altra, che è sempre costantemente, continuamente bloccata dal fatto che non mi stai seguendo, che è una proprietà molto limitata sotto alcuni punti di vista, ecco io ho sempre detto questa cosa qua per me, con Sarri non va bene. Lotito, parliamoci chiaro, non è in linea con Maurizio Sarri, così come De Laurentiis non era in linea con Luciano Spalletti, poi che ti possano fare delle stagioni pazzesche con Spalletti e ti vince lo Scudetto, con Sarri che ti arriva secondo, miglior piazzamento della storia della Lazio in era, in epoca Lotito, va bene, però poi quando si tratta di alzare la sticella, e la Lazio è questa, ma è questa perché? Perché questo è quello che dà Claudio Lotito, quante volte ci sono stati batti e ribatti tra presidenza, cioè tra proprietà e il mister, quante volte abbiamo sentito Sarri parlare di determinate cose e Lotito risponderne determinate altre, cioè in una situazione in cui tutto va bene, tutti, diciamo, pedalano, navigano, remano dalla stessa parte, questa cosa qui alla Lazio non succede, questa cosa qui alla Lazio non funziona, fino a che Lotito sarà presidente, Lotito comanda, fino a che De Laurentiis sarà il presidente del Napoli, De Laurentiis comanda, c'è poco da dire, c'è poco altro da dire, e voi direte, vabbè ma è chiaro, è normale che il presidente comandi, fino a un certo punto, cioè è chiaro se e soltanto se si parla di comandare sotto il punto di vista delle gerarchie, ma dopo c'è un amministratore delegato che amministra, c'è un direttore sportivo che dirige la parte sportiva, c'è un allenatore che allena, c'è un presidente che presidia, c'è un proprietario che detiene, ma ognuno deve saper fare il proprio ruolo e lo deve fare nel migliore dei modi, se un proprietario si mette sul livello di altre figure, dal mio punto di vista, non si arriva mai a un punto di incontro, è chiaro che questi sono i miei due centesimi, io non sto dicendo cosa fa o cosa non fa Lotito, cosa fa o cosa non fa De Laurentiis, io sto dicendo il mio punto di vista, perché secondo me il problema è stato questo, non vuol dire che io sto andando ad accusare qualcuno, e ci tengo a sottolinearlo, la Lazio secondo me dopo le dimissioni di Sarri, che so sacrosante, sono sacrosante, perché anche io personalmente fossi stato in Sarri mi sarei dimesso dal momento in cui io voglio alzare l'asticella, ma mi rendo conto che da parte della dirigenza quella cosa non c'è, io mi fermo, io mi blocco, quindi io penso che a questo punto che la Lazio perde Maurizio Sarri, io vi dico, a parte vi dico la verità, per me se la Lazio si fosse fidata di Sarri, se Lotito si fosse fidato di Sarri, tenendo sempre sotto controllo i conti chiaramente, ma se si fosse fidato di Sarri e l'avesse eseguito nelle scelte, nelle richieste, in tutto ciò che l'allenatore ex Lazio a questo punto voleva, secondo me, e non sto scherzando, ve lo dico da romanista, quindi figuriamoci, Sarri avrebbe portato la Lazio in tre anni al massimo a vincerlo Scudetto, io di questa cosa ne sono certo, la stagione di quest'anno non arriva per caso, come la stagione pessima del Napoli, non arriva per caso, sono delle scelte sbagliate, errate, fatte nella costruzione di un progetto, fatte nella preparazione di un progetto, fatte nella progettualità errata della Lazio e del Napoli, questa è la verità. La Lazio, secondo me, a questo punto, e ve lo dico con grande sincerità, se non fa bene la scelta dell'allenatore, torna ad essere una squadra da metà classifica, perché dopo il crack di Cragniotti negli ultimi decenni, la Lazio ha fatto un paio di apparizioni in Champions League, e ad eccezione magari di una stagione dove mi sembra con Pioli e un super Felipe Anderson aveva iniziato a vincere tutte le partite del rimonta, arrivando terzi e poi uscendo comunque ai preliminari di Champions, io ricordo solo delle grandi Lazio, recentemente con Sarri e con Inzaghi, ma precedentemente la Lazio ha fatto tanti decimi, ottavi, settimi, settimi, sesti, settimi, ottavi, decimi, posti, quindi se sbagliano la scelta dell'allenatore, con la gestione di Lotito, secondo me, torneranno a metà classifica, e in questo momento la scelta è veramente pesante. Sarri sa cosa fa, Sarri sa come si muove, Sarri sa come ci si comporta, e a questo punto io ritengo che per giugno Sarri diventi una scelta, una carta valida, anche per il Milan per l'anno che viene, perché noi per il post Pioli abbiamo sempre pensato ad Antonio Conte, che secondo me chiuderebbe volentieri con il Milan, ma che ti chiede dieci volte, dieci volte no, ma tre, quattro sì, quello che chiede Sarri, cioè con Sarri secondo me con tre, quattro milioni te lo porti a casa, credo, non lo so quanto, mo lo cerco, sentite, perché sennò faccio una gaffa, quanto percepisce Sarri alla Lazio, tre e mezzo netti l'anno, e Conte te ne chiede dieci, cioè quindi dal momento in cui Sarri comunque secondo me il Milan riuscirebbe a farlo performare, diventa immediatamente una carta valida, la Lazio ha una rosa oggettivamente scarsa, scarsa, che ha fatto dei miracoli lo scorso anno, perché? Perché quando tu inglobi, quando tu apprendi in totale, in toto, i dettami tattici di Sarri, tu non hai più bisogno di essere forte, tu devi essere funzionale, quindi ci puoi mettere anche dieci giocatori mediocri che ti rendono al massimo. Ora, se noi andiamo a prendere la formazione della Lazio, che perde contro l'Udinese in casa, i primi cinque nomi, tolto, cinque nomi di movimento, tolto Romagnoli, che secondo me è un buon giocatore, sono Lazzari, Gila, Isai, Vesino e Cataldi. Io non metto in dubbio che Lazzari, per una squadra che l'hanno scostitata a seconda, può essere un buon panchinaro a destra, come sei un buon panchinaro a sinistra, come Gila un buon quinto, difensore come Vesino, un giocatore che ogni tanto gioca come Cataldi un panchinaro, ma questi sono i titolari della Lazio, quindi l'obiettivo con questa rosa, con questa squadra, non può essere la Champions, la Champions può essere sempre l'ambizione di un uomo che si fa un culo grosso così e che ti fa performare. Sarri è un signore, Sarri dimettendosi adesso con lo stipendio che aveva, con gli anni di contratto che aveva, rinuncia a Lordi a 10 milioni di euro l'anno, cioè a 10 milioni di euro totali, perdonatemi, Lordi a 10 milioni di euro, ma chi glielo doveva far fare a dimettersi? Si è dimesso perché? Perché ha detto io non voglio rovinarmi la faccia, qui per me non c'è più terreno fertile, io qui non posso più far crescere la squadra e per me lì Sarri è stato veramente un signore. La Lazio ragazzi davanti, c'è Felipe Anderson, Petro, Immobile, sono sempre quelli. Parliamo del mercato, del mercato della Lazio, perché qualcuno adesso verrà a dirmi ma la Lazio il mercato gliel'ha fatto. Allora, partiamo da un presupposto importante, hai preso Castellanos e Isaacson. A me va bene Castellanos e Isaacson, ma la mia domanda è che quando li hai presi li vedevi già come dei grandi titolari? Io no, io li vedevo come calciatori che possono fare titolari magari dopo un anno di inserimento, ma era chiaro dall'anno scorso che Immobile, Pedro, non fossero più adatti a farsi 38 partite su 38 di campionato, 50 partite stagionali, era chiaro già dall'anno scorso. Quindi tu o mi capivi e mi dicevi facciamo un anno di transizione e quindi so che arriviamo settimi, non c'è problema eccetera e questi me li fai crescere nel frattempo, o Isaacson e Castellanos me li prendevi, giocatori di questo tipo intendo, non proprio loro, me li prendevi l'anno scorso, me li prendevi intendo, li prendevi l'anno scorso e quest'anno erano pronti per giocare i titolari, oppure dovevi andare su uno scamacca d'attacco, su un Berardi esterno e ci avevi due giocatori che erano pronti a fare i titolari al posto di Immobile, al posto di Pedro o di Felipe Anderson che tra le altre cose non ha trovato l'accordo con la Lazio e a giugno se ne va via parametro zero. Ecco queste cose qui io mi posso aspettare, queste cose qui, non il mercato che è stato fatto alla Lazio, la Lazio ragazzi è andata in Champions League, la Lazio quest'anno ha fatto la Champions League e con tutto la Lazio ha passato anche il girone di Champions League e tu nella differenza tra ingressi e uscite hai speso, sei andato sotto di 10 milioni di euro, vuol dire che sui 40 milioni che la Lazio si è presa l'Otito non li ha spesi sul calciomercato, non li ha spesi, ma mi spiegate così come pensi di poter costruire un progetto vincente? Tare, che mo se lo vuoi Tare torna pure, con l'addio di Sarri, con le dimissioni di Sarri secondo me Tare torna pure, però vi stavo dicendo Tare è andato via perché l'Otito ha scelto Sarri, perché da quanto si è capito, pare, ci fossero problemi tra Sarri e Tare e va bene così, e va bene così però tu cacci Tare, tu non gli rinnovi il contratto, prendi un direttore sportivo, oggi non ce la faccio a parlare, sportivo tu hai preso un direttore, lo hai preso Fabiani, l'hai preso a fine mercato, non gli hai fatto praticamente fare niente l'hai messo tra l'altro manco sotto quella figura, ma sotto un'altra figura, come se il calciomercato l'avessi fatto te praticamente e poi, perché poi sembra che io lo dico, lo dica per dare fastidio, no? Io questo è stato quando la Lazio ha preso Kamada ho detto Kamada è forte, ma che cazzo ci azzecca? Eh vabbè, tu stai rosicando, va bene? Kamada a fine anno va via Kamada a fine anno va via, Kamada è stato un grande flop, Kamada, Kamada diventerà uno dei più grandi flop della storia della Lazio secondo me, sia a fine anno va via, perché? Perché era arrivato con un'attesa, con un hype che veramente ci si poteva, non lo so, rispecchiare al mare con tutto l'hype che c'aveva Kamada intorno e io non metto in dubbio che Kamada non sia forte, cioè io Kamada alla Roma me lo sarei preso volentieri perché è un trequartista, la Lazio doveva sostituire Milinkovic e Savic che minchia ci azzecca Kamada come sostituto di Milinkovic e Savic quando la Lazio ha preso Guendouzi ho detto, regà fidatevi di me che tra tre e quattro mesi poi è andato anche meglio, anche più veloce è stato, parleremo di un Kamada che non gioca e di un Guendouzi che è il sostituto di Milinkovic e Savic e per me Guendouzi è un ottimo calciatore, a me piace tanto però non è l'altezza di Milinkovic e Savic, sì Kamada non ce capisce niente, quello è quell'altro io ti chiedo, io Sarri ti chiedo Ricci, ti chiedo Ricci una mezzala italiana, giovane, che conosce la Serie A e che è perfetta nel ruolo di mezzala per Maurizio Sarri tu mi prendi Kamada, un giocatore che in Serie A non c'è mai stato un trequartista che prende cinque volte quello che prende Ricci che è un po' una prima donna perché arriva come un calciatore già fatto e finito che ha delle caratteristiche completamente diverse che non ha la propensione difensiva che chiede Maurizio Sarri che ci devi fare con Kamada? c'è anche questo, se io ti chiedo A e tu mi dai B capisci che siamo già arrivati ad un punto di rottura prima di iniziare e mi fa ridere perché come se non bastasse poi è arrivato De Laurentiis che ha detto le sue fantastiche, fantasmagoriche parole immediatamente perché tanto De Laurentiis se non spara a merda non è contento e ha detto di Maurizio Sarri la sto cercando ma chiaramente l'ha detta ha detto tipo Sarri ha lasciato non ha avuto le palle per continuare in grosso modo ha detto questo anzi se lo trovo ve lo dico proprio con le parole esatte dice chi dà le dimissioni è un perdente allora io non voglio essere cattivo a parte per me di lavorare su quello che dice sbaglia c'è veramente c'è una capacità mio parere personale in cui ogni volta che parla dice una cazzata per me poi Sarri comunque nonostante la Juve è ancora amato dai tifosi del Napoli perché devi dire una cosa del genere poi chi dà le dimissioni è un codardo bene e chi invece caccia gli allenatori chi non fa finire i progetti cos'è? no perché quest'anno De Laurentiis ne ha cambiati tre ne ha cacciati due a Garzia non lo ha mai difeso gli ha dato il ben servito dopo tre mesi lo ha criticato quando lo ha cacciato ha preso Mazzarri lo ha cacciato dopo due mesi adesso ha preso Calzona vediamo quanto dura chi è? com'è chi caccia gli allenatori? cos'è chi caccia gli allenatori? non gli fa finire un progetto? non gli fa quando un allenatore inizia una stagione si programma la stagione c'ha una programmazione se la gente sa cosa vuol dire quindi ci sono dei giocatori ci sono delle preparazioni atletiche che entrano in gioco a settembre a ottobre e altri che entri in gioco a gennaio a febbraio se tu cacci un allenatore a novembre quei stessi giocatori non arriveranno mai al top con quell'allenatore perché arriveranno al top quando lui sarà già al mare poi tu prendi un altro allenatore che fa un'altra preparazione che fa che ha altre idee ecco quell'allenatore lì stravolgerà di nuovo la squadra ora premesso che già dire una del genere per me è una cazzata aggiungo anche che chi dà le dimissioni perché si rende conto di non essere in linea in linea con la presidenza e se lui chiede non gli viene dato e rinuncia rinuncia a 10 milioni di euro lordi però 7 netti 6 7 per per l'onore assolutamente è tutto fuorché è un perdente è un signore purtroppo molte persone non sanno che vuol dire essere signori è la verità però è un signore io vi dico la verità nonostante io sia romanista e ogni volta la Lazio perde sono molto contento in ogni situazione possibile inimmaginabile Maurizio Sarri non l'ho mai odiato perché è sempre stato un signore e per me definire Maurizio Sarri perdente perché dalle dimissioni quando si rende conto che questo era il il limite è follia io mi auguro che Garzia non trovi più una squadra che quindi non sia un perdente Garzia che non vada da nessun'altra parte che rimanga lì a prendere il suo stipendio fino all'ultimo dei suoi giorni e mi auguro che quindi De Laurentiis non avrà un perdente nella sua batteria di allenatori acquistati e continuerà a pagarlo e a pagarlo e a pagarlo fino all'ultimo centesimo io mi auguro questo Maurizio Sarri dal mio punto di vista poteva dire sai che c'è ma che cazzo me ne frega tanto ne perdiamo altri tre o quattro e qui me cacciano me ne vado a armare c'è un altro anno di contratto sto lì palle all'aria mi guadagno dieci milioni d'euro ma chi me lo fa fare invece lui ha dato le dimissioni e ha dato le dimissioni senza nessun'altra squadra pronta a prenderlo adesso adesso rinunciando a dieci milioni di euro questo è essere signori non perdenti signori rimane Martuscello perché giustamente lo staff non rinuncia ai soldi Sarri ripeto è un signore non è che Martuscello non è un perdente Sarri è un perdente semplicemente Martuscello è giusto che rimanga con tutto il suo staff perché non aveva nulla contro lo dito mentre Sarri va via perché ha deciso di dare le dimissioni quindi rimane Martuscello e al momento almeno per la prossima partita sarà lui ad allenare la Lazio si era parlato di gente come Close Brocchi Rocchi anche se prendere questi tanto vale prendere Martuscello l'unica cosa è che se è vero come si diceva che la Lazio la Lazio squadra la Lazio gruppo i giocatori giocavano contro Sarri avere Martuscello ancora non credo faccia grandi differenze nel senso che Martuscello faceva parte attiva integrante dello staff di Sarri quindi quindi comunque avere Martuscello significa avere Sarri ma non la figura di Sarri per questo secondo me ha veramente poco senso continuare con Martuscello però secondo me insomma se la Lazio i giocatori se i giocatori dovessero riniziare a seguire l'allenatore la Lazio può iniziare una mini rincorsa almeno verso l'Europa League ma anche qualcosa di più almeno a sognare è chiaro però che devi seguire delle indicazioni tattiche perché lo potevi fare anche con Sarri ad esempio Martuscello è molto stile Sarri anche se poi Martuscello fece retrocedere l'Empoli e secondo me quella stagione lì era proprio tutti 0-0 vabbè lasciamo perdere pare che la Lazio avesse contattato avesse contattato Tudor pare che Tudor abbia chiesto 3 milioni di euro e pare che ovviamente gli abbiano detto no ma tanto ogni volta succede così cioè ogni volta vanno da Tudor ogni volta Tudor chiede tanti soldi ogni volta e poi tanti soldi 3 milioni ogni volta gli dicono no detto questo detto questo vediamo quello che succederà perché io oggi non lo so e credo che la Lazio perda veramente tanto dal mio punto di vista la Lazio oggi perde veramente veramente tanto fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace buo cialalla ciao